Il grande tendone del Cirque du Soleil sarà montato nell'area scoperta del Silos che si affaccia sul Porto Vecchio. Dal 13 giugno al 13 luglio vi si terranno le 40 repliche dello spettacolo Allegria, presentato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. La location, che occuperà uno spazio di 3 ettari, sarà punto di riferimento per un evento di prestigio internazionale che in Italia toccherà solo Roma, Milano ed appunto Trieste. Stamani a Rossetti, nel corso di un breve incontro con la stampa, la location è stata dunque disvelata. Secondo me la miglior location che si poteva avere per il Cirque, data la centralità e il suo rapporto con il centro cittadino, teniamo conto anche della bontà dei collegamenti in tutta l'area, perché è a fianco alla stazione dei treni, che è anche terminal per l'aeroporto, tutta una serie di servizi legati alla micromobilità, un hub per il trasporto urbano. È un'area privata, ci sono state appunto delle interlocuzioni con il privato anche per riuscire ad arrivare a questa scelta, ma io credo che comunque è uno spazio della città, è uno spazio che è all'ingresso del portovecchio, che diventerà appunto portovivo e quindi è sicuramente una zona che è destinata ad essere rivalutata in tempi evidentemente non lunghi, ma a breve termine. Il Grand Chapitaux, forse per la prima volta nella storia del Cirque du Soleil, sarà centralissimo rispetto alla città che lo ospita. La produzione verrà coinvolta in oltre 350 persone, fra cui 100 professionisti locali. Però c'è un dato da sottolineare ulteriormente. Da tempo per Trieste, il Silos e le zone con termini richiamano alla memoria situazioni di degrado. Ospitando lo spettacolo del Cirque du Soleil è come se cambiasse la prospettiva. Di ciò è sicura Milba Carletti, direttrice generale di Coppaleanza 3.0. C'è una, come sanno tutti, una compravendita in atto che si realizzerà prossimamente. Il progetto è veramente molto interessante, di grande riqualificazione, che darà un flusso veramente importante di passeggeri, di turisti, proprio un flusso che darà vitalità alla città. Schwarzer Felsen, la società che subentrerà nella proprietà del sito, ha assicurato il proprio pieno appoggio alla manifestazione. Allegria ha già venduto oltre 10.000 biglietti.